Il diavellino con De Nicolaou, esce e riceve Radori da Ricciolo, prende il tiro dalla media, talento puro che gli esce dalle mani, questi sono due punti facili per Pietro. Bello, bello, lui è molto bravo, tira benissimo. Servi, attacca ancora Medeo, ribada per Radori, buon tiro aperto per Pietro, bomba, Pietro Radori. Aradori, lacrima, segno, non rischia di entrare in un tunnel mentale difficile, Aradori lo fa con un palazzo, il resto è il tiro, 6 secondi, 5 secondi, Aradori in linea di fondo, contro Terini, il tiro buttandosi indietro. Baglia, altro rimbazio di reggio, Aradori subito da 3, bomba! Polonara, sotto Aradori da solo, prende il tiro e segno. Centrale con Servi, attacca Aradori, vuole arrivare al ferro e c'era a fondo. Contro Thomas, attacca col piccarola, ancora Aradori, ferma, tiro difficilissimo, ma gran canestro. Soppa 2, blocco di De La Valle, Aradori ancora, tempo a reggio, attacca, compino in fondo, prende il tiro, buttandosi indietro, segna! Ora si torna da Pietro, contro Leunen, ovviamente, si va da Pietro Aradori, che stacca Leunen, lo batte, arriva al ferro e segna. Soppa 2, blocco di De La Valle, attacca, tempo a reggio, attacca, tempo a reggio, attacca, tempo a reggio, attacca, tempo a reggio, attacca. Grazie.